e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono roid e finalmente parliamo di nuovo di modding oggi infatti vediamo un nuovo save editor fresco fresco di praticamente un paio di settimane che mi sono un po studiato e imparato a utilizzare in questi giorni e adesso mi sento pronto a portarvi e spiegarvi quindi nuovo episodio di modding perché vi porto questo save editor quando ho già fatto due guide in passato uno dei save editor che vi ho mostrato in passato purtroppo adesso non funziona più e non funzionerà più ho già fatto un video riguardo cosa è successo a bl3 editor e vi lascio il link in descrizione comunque vi consiglio di andare a vedere quel video che spiego in letteralmente un minuto e mezzo cosa è successo e perché l'altro editor invece raptor editor è un buon editor ma lo ritengo un pochino troppo complicato e a livello grafico è un pugno in un occhio l'editor che invece vi mostro oggi è quello che reputo il migliore può fare quasi tutto l'unica cosa che non lo può fare lo può fare un altro nuovo editor che vedremo in futuro quando lo saprà utilizzare un pochino meglio quindi cos'è un save editor per chi non lo conosce cosa può fare questo save editor il save editor può modificare i vostri salvataggi nel caso di borderlands i salvataggi sono di due tipi sono il .sav che è un numerino .sav ed è un pg può essere marasen mosflak eccetera uno di quelli o profile .sav il profile .sav è il vostro profilo quindi quello che è i vostri gradi guardiano eccetera 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 ora questo può modificarli letteralmente entrambi può modificare il profilo o può modificare i salvataggi ovviamente le opzioni cambiano in base a cosa scegliamo partiamo subito dal profilo che è quello più veloce con meno settaggi per scegliere se volete modificare un salvataggio o un profilo vedete che c'è la lista che vi fa direttamente scegliere vi dice anche cosa è salvataggio e cosa è profilo quindi nel profilo avremo la possibilità di sbloccare tutte le decorazioni aumentare la banca aumentare il loot perduto eccetera maxarli con un tasto solo i gettoni scienza che vi ricordo vi consiglio di non modificare perché è una cosa che veramente aiuta la scienza ed è divertente guadagnarli quindi guadagnateli e non sbloccateli a caso c'è poi la possibilità di modificare tutte le proprie chiavi chiavi dorate, chiavi di diamante, chiavi della carta della cripta 1 e le casse, carta della cripta 2 e le casse e questa cosa non sapevo neanche ci fosse fino a un paio di giorni fa c'è poi la possibilità di andare a modificare la banca e questa schermata la vedremo dopo quando vedremo la modifica del personaggio e ci sono poi dei settaggi che non ci vanno a interessare per quanto riguarda invece i salvataggi abbiamo ovviamente come vi dicevo prima il nome nel salvataggio che personaggio è e il livello in questo caso nella sezione character o personaggio potremo andare a modificare il nome, la classe, il livello, l'esperienza, i punti, abilità la skin, testa e tema dell'eco potremo decidere quali slot bloccare o sbloccare nel caso vogliamo fare magari una run senza armi possiamo ribloccarceli a mano in modo da non equipaggiarle per sbaglio possiamo prendere gli SDU delle armi e le munizioni possiamo fare un pochino tutto diciamo nella sezione inventario possiamo andare a vedere i vari oggetti e possiamo andare a modificarli e qui arriva il grande miglioramento rispetto a tutti i save editor che io abbia mai utilizzato infatti oltre a poter aggiungere qualunque oggetto al vostro inventario creandoli da zero ovviamente o inserendo il solito codice che vi ho già spiegato dall'inizio del modding dove si trova e come inserirlo potremo direttamente utilizzando la sezione loot lemon items prendere tutti gli oggetti presenti in modo da lens 3 vedete 499 ci basterà scegliere un qualunque nome non so anarchy fare in porta e verrà aggiunto al nostro inventario e arriverà nella schermata qua a destra che adesso vediamo dove potremo personalizzarlo questa schermata a destra cosa fa e a cosa serve allora sono le informazioni sull'oggetto in questo caso il livello dell'oggetto il seriale che è quel codice appunto che possiamo importare o esportare alcuni pezzi di cui è composta l'arma e quindi come viene letta dal gioco le parti dell'arma che abbiamo a disposizione e le consacrazioni che abbiamo a disposizione in automatico per la maggior parte delle volte mostrerà solo quelle che possiamo fare per creare un'arma legit quindi non potremo fare miscugli a caso senza mettere la spunta su shovel parts potremo soltanto creare armi giuste, legali diciamo o quasi mentre sulla destra current parts, current announcements vedremo i pezzi che abbiamo già vedete che sono anche sotto categoria barrel, barrel accessory, body, body accessory eccetera quindi potrete letteralmente capire come inserirlo e giusto per spiegarvi velocemente 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 come creare un oggetto legit per essere legit di norma deve avere una parte per ogni giallo quindi un barrel, un barrel accessory, un body eccetera almeno e nel caso queste parti abbiano dei numeri devono avere sempre lo stesso numero quindi se voi scegliete un 1 potete mettere barrel 1, barrel accessory 2 eccetera all'interno della stessa categoria però per esserci sempre la stessa non potrete mettere barrel 1 e barrel 1b e barrel 2c eccetera devono essere tutti 1, 1b, 1a, 1c oppure 2, 2b, 2a, 2c eccetera devono avere sempre le consonanti diverse se volete potete metterli tutti oppure no ma devono avere sempre lo stesso numero nella stessa sezione spero di essermi spiegato ma editare gli oggetti è una cosa abbastanza complicata che non è lo scopo di questo video andiamo avanti abbiamo la categoria currency in cui possiamo modificare soldi e deridium abbiamo la categoria veicoli dove possiamo andare a sbloccare tutte le varie skin e parti di tutti i veicoli del gioco e infine la categoria settings che abbiamo visto prima per settare bene le cartelle di dove si trovano i salvataggi eccetera fine vedete che è stata una spiegazione molto più veloce di raptor perché è molto più semplice e molto più veloce da capire quindi vi lascerò il link qua sotto in descrizione è un progetto di github open source e quindi vuol dire che vi potete fidare non ci saranno video virus o altre stupidate se lo scaricherete da github vi invito a cliccare qui per vedere uno dei modpack più famosi di borderlands 3 grazie a tutti grazie a tutti